16 luglio 2015 compare questo bellissimo cerchio nel grano. Adesso vi faccio vedere come si smonta un cerchio nel grano per comprenderne il messaggio. Tiriamo fuori il diagramma, lo schema, evidenziato con diversi colori per identificare i singoli componenti. Al centro abbiamo una stella a 8 punte. La stella a 8 punte è un segno che identifica la Santa Vergine. Qui vediamo un'icona della Chiesa ortodossa, vedete, ha sul mantello una stella a 8 punte con queste fiammelle che scendono giù, guarda caso, molto simili a una pittura che c'è a Firenze dove si vede la Madonna e San Giovannino e dal sole escono queste scintille. Quindi la stella a 8 punte rappresenta la Santissima Vergine. La stella, la Santissima Vergine Maria, il fatto che identifichi lei, lo ritroviamo dal sole che c'è dietro e questo richiama il capitolo 12 dell'Apocalisse di Giovanni, quando parla Giovanni della donna vestita di sole. Quindi riguarda la fine dei tempi e nel capitolo 12 dell'Apocalisse di Giovanni la Madonna è incinta, cioè sta per partorire nuovamente il figlio e anche simbologicamente la nuova era, il cambio, il salto quantico, chiamatelo come volete. Quindi è la stella divina di Maria, la stella a 8 punte. La mezzaluna, vedete, è divisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 parti. Scusate, sto avanzando un po'. La mezzaluna, no, la stella a 8 punte è anche rappresentativa della stella dei Magi. Quindi è un altro segno che parla dell'avvenuta. Poi qui abbiamo la luna che è una luna crescente e abbiamo 8 cerchietti che rappresentano le 8 fasi lunari. Quindi diciamo così che la luna indica lo spazio, le fasi della luna indicano il tempo, quindi lo spazio-tempo. Quindi la Santa Vergine si sta manifestando nello spazio-tempo. E anche nell'icona classica della Vergine di Fatima abbiamo la stella a 8 punte. Va bene? Quindi diciamo la stella a 8 punte richiama la Vergine e le sue apparizioni, Fatima compresa. Ma la mezzaluna è anche il simbolo dell'Islam. Fatima è la città che porta il nome della figlia del profeta. Quindi la Santa Vergine che appare nel mondo ma si riferisce a Fatima, all'Islam. Quindi sta indicando il cerchio nel grano la profezia di Fatima perché la figlia prediletta di Maometto era proprio Fatima. E dal Medio Oriente, che è l'Islam, le profezie ad esempio di Nostradamus indicano che si scatenerà la scintilla che porterà alla terza guerra mondiale. Quindi c'è tutto un escursus profetico nel cerchio nel grano assolutamente coerente. Il fatto poi della stella a 8 punte non è sintomatico in termini di simbologia solo del cristianesimo. Lo ritroviamo anche in altre culture, oltre alle culture più antiche che è la cultura sumera. La dea più antica conosciuta dall'umanità è la dea sumera Inanna. La dea sumera Inanna era rappresentata da una stella a 8 punte e la ritroviamo in un kudurru, un kudurru del re Melis Shimpak del secolo XII a.C. I kudurru erano delle specie di steli di ricordo. Ad esempio, se un personaggio riceveva un dono dal re, un terreno, per esempio, nel luogo, nel terreno ricevuto, si metteva una stele di pietra chiamata kudurru con delle simbologie che ricordavano il dono fatto dal re. Quindi in questo kudurru abbiamo la stella di Inanna, che è una stella a 8 punte. Diciamo quindi la dea è identificata sin dall'antichità con questo simbolo. E la dea Inanna, guarda caso, anche lei è una dea alata. Quindi di nuovo le ali, quindi esseri che vengono da altri luoghi. La dea Inanna poi diventa la dea babilonese Ishtar, sempre alata. E poi diventa la dea egiziana Iside, ma anche la dea alata del cristianesimo e la dea dell'Apocalisse. Quindi c'è tutto un richiamo nella simbologia che indica che siamo nel tempo profetizzato. Questa è una pittura del pittore contattista Bruce Pennington, dove rappresenta la vergini alata del capitolo 12 dell'Apocalisse, l'attacco del dragone, eccetera, eccetera. Quindi questo cerchio nel grano, apparso nel 2015, rinnova la conferma della profezia apocalittica e rinnova l'aspetto messianico che siamo nella fine dei tempi, quindi in quel tempo in cui sul nostro pianeta si deve instaurare la nuova società, basata sulla fratellanza, sulla giustizia e sull'amore, cioè basata sull'equilibrio delle tre scienze principali che ha l'umanità, la scienza dello spirito, la scienza della sociologia e la scienza della materia che ci dà la tecnologia che tutti usiamo. Quindi senza l'equilibrio di queste tre scienze le umanità si autodistruggono.